I prezzi al consumo in Svizzera sono scesi ad agosto dello 0,2% rispetto al mese precedente, sotto la pressione combinata del francoforte che ha battuto il costo delle importazioni e del calo delle quotazioni del greggio. L'indice si è attestato a 97,6 punti rispetto all'agosto 2014, la contrazione dell'1,4%, la più marcata dal 1959. Il board dei governatori della Banca Nazionale Svizzera si riunirà il 17 settembre, ma la maggioranza degli economisti esclude un cambio di rotta nella politica monetaria. Quello di agosto è il decimo mese consecutivo che riflette un calo dei prezzi su base annua, una tendenza iniziata a fine 2014, accelerata però dalla decisione a gennaio di abbandonare il cambio fisso con l'euro.